libro dei salmi bibbia salmo 85 tu solo sei dio mostrami signore la tua via questo è senza dubbio il salmo più bello di tutto il libro dei salmi una splendida lettura che dovremmo ripetere molto spesso perché davvero piena di frasi che riempiono il cuore d'amore ogni parola e ogni frase di questo salmo sono un tocco sereno e felice per la nostra anima chiama dio infinitamente la lettura si apre con una frase bellissima che è questa signore tendi l'orecchio rispondimi perché io sono povero e infelice una frase che ci fa comprendere come colui che scrive nutre un grandissimo amore verso dio e gli chiede di essere sempre al suo fianco di custodirlo di essere la sua luce che irradia il suo cammino splendido davvero questo salmo in cui spesso viene chiesto al signore di fare difesa contro coloro che attaccano contro coloro che sono invidiosi di chi segue dio quando noi cerchiamo il signore allora egli viene da noi ci soccorre e ci consola questo vuole comunicarci soprattutto il salmo leggiamo il salmo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti